Abbiamo anche la foto, ce l'abbiamo donato la foto, è uscita proprio pochi minuti fa, eccola qua, quello è il capo del commando, tra l'altro c'è stata anche una rivendicazione dell'Isis, diciamolo, diciamolo perché come c'è stata fatica a dire che erano cristiani le vittime, c'è stata una difficoltà a dire che i terroristi sono islamici. I terroristi sono islamici, terroristi 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 islamici, scusate se l'ho ripetuto un po' di volte, ma sapete com'è? E in questi giorni anche sui giornali, faticavo a sentirla questa parola. E invece io sono convinto che solo quando le cose si chiamano con il loro nome e con il loro cognome, terroristi islamici, si riescono a sconfiggere. Le Brigate Rosse abbiamo iniziato a sconfiggere quando le abbiamo chiamate Brigate Rosse e abbiamo detto quello che erano davvero. Prima si dicevano sedicenti Brigate Rosse. I comunisti non possono essere terroristi, la violenza è solo fascista e non si capiva niente. Quando si è iniziato a chiamare le cose con il loro nome si sono sconfitte per cui le cose vanno chiamate con il loro nome. Terroristi islamici.